E' prontissimo, non vedo il countdown, ma mi fido di niente. Ma non si preoccupi, si fidi, facciamo partire il tempo. Prima domanda, PD e 5 Stelle, un futuro insieme? Sì, si governeranno bene l'Italia. A Zingaretti voglio dire? Di essere consapevole del ruolo del suo partito e quindi di avere una diplomazia unitaria, ma molto esigente. Non è abbastanza esigente? Se dico molto esigente, diciamo intelligente bussipauca, oppure per dirla in italiano, oppure in italiano, chi ha orecchie per intendere, intende, appunto. Poi io non mi accontento mai, sono uno, tra virgolette, molto esigente anche con me stesso, se figuri con gli altri. Riprenderebbe Renzi nel Partito Democratico? Ma penso che non voglia venire, l'ha spiegato tante volte, mi sembra una questione che non esiste. Per quanto vuole ancora fare politica? Sparne il tempo per la prossima risposta. L'ho capito. Per quanto tempo vuole ancora fare politica? Vede, io sono ormai un signore anziano. Ho avuto il mio primo incarico di governo 22 anni fa. E pare che la politica non faccia benissimo alla salute. Quindi basta? Gli ho dato una risposta, diciamo, non fa benissimo alla salute. Arrivata a una certa età uno deve dire ansia ad altro. Ma le manca il potere? Lasci perdere che io gli anni li porto bene, diciamo. Ma benissimo che lo diciamo a fare. Le manca il potere? L'ho talmente frequentato tanto che non mi manca, diciamo. Una cosa di cui è orgoglioso? Di avere servito il mio paese. Un rimpianto? Al di là dell'appartenenza dei partiti. Un rimpianto? Nessun rimpianto. Sono abituato a vivere senza rimpianti. Rifarebbe il ministro? Magari sbaglierò, ma senza rimpianti. Rifarebbe il ministro? Assolutamente sì, assolutamente sì. Per me è stato uno straordinario onore, diciamo. Servire il mio paese è uno straordinario onore. Farebbe il sindaco a Roma? No, perché non sono romano. Ci vuole uno che è romano di Roma. Io sono calabrese. So perfettamente che c'è una colonia calabrese è molto nutrita a Roma, ma non sono romano. Dopo la politica, Minniti, che cosa c'è per Marco Minniti? E poi non mancano i candidati. E poi non mancano i candidati. A proposito, ma lei lo voterebbe Calenda? Sì. Mi sembra una persona degna di meritare la mia fiducia. Minniti, da ultimo, mi dice ma veramente in un titolo... Sì, lo so. Mi dice in un titolo... Dopo la politica, Marco Minniti, fa... Io vorrei fare due cose, se fosse possibile. La lettura e l'insegnamento. Che sono due cose che stanno molto insieme. auguri, allora. Ho gran parte del mio tempo a leggere. E allora auguri per la lettura e per l'insegnamento. Grazie Marco Minniti, ci vediamo presto, spero. Grazie a voi, buon pomeriggio. Se lei mi invita, un giorno verrò a leggere anche davanti a lei. Wow, la meraviglia. Sarà fatto, eh? Noi la prendiamo in parola. Andiamo in pubblicità.